Benvenuti ragazzi in questo nuovo video, io sono Xstarter e oggi ragazzi sono qui su GTA V ma per parlare di GTA VI nuovamente dopo un bel po' di tempo Ragazzi, ho trovato un easter egg che probabilmente, oppure no, oppure è frutto della mia fantasia che è collegato a GTA VI Vedremo un po' insieme a voi, nel frattempo io vi invito a iscrivervi al mio canale se non siete ancora iscritti Lasciate un bellissimo like al video se il video siete sicuri che già vi piacerà perché siete fan, appassionati e accaniti Io vi invito inoltre a condividere questo video sui vari social perché se il ragionamento che ho fatto io vi piace Condividetelo sui vari social per farlo sapere anche ai vostri amici Ma soprattutto la cosa fondamentale, quello che più importa è che voi commentate qui sotto per farmi sapere la vostra Quindi condividete il video se volete, però mi farete un grandissimo piacere E commentate qui sotto facendomi sapere che cosa ne pensate di quello che vi dirò e di quello che vi mostrerò Io vi invito ad entrare nel mio gruppo Telegram che è per Android e per iPhone quindi potete entrare tranquillamente Scaricatevi Telegram se volete, proprio se volete venire Comunque sia se ce l'avete io vi invito ad entrare, vi lascio qui il link del canale Basta che cercate su Telegram, chiocciola, xstarter, yt o senza la chiocciola Ed entrate insomma, vi avviserò quando usciranno nuovi video e insomma vi dirò qualche cazzata ogni tanto E spareremo qualche puttanata Ebbene dopo il mio fottutissimo minuto di introduzione finalmente possiamo iniziare Ragazzi su GTA Online al cinema di Los Santos ho trovato un estrega alquanto strano Qui nella cabina dove si vanno a fare diciamo i biglietti per entrare e per vedere i film al cinema Sta scritto Los Santos 2020 Ora in teoria non c'entra un cazzo ma comunque sia io con la mia mente malata Ho pensato ma non è che GTA 6 sarà ambientato a Los Santos nel 2020? Cioè mi spiego meglio, non è che GTA 6 uscirà nel 2020 e magari la mappa sarà a Los Santos Oppure un'altra mappa, diciamo che la mappa difficilmente sarà a Los Santos Ma comunque sia potrebbe essere o non potrebbe essere, ecco mettiamola così Ora ragazzi perché io dico che GTA 6 potrebbe uscire nel 2020? Per il semplice fatto che GTA 5 ancora tuttora dopo due anni, tre anni quasi Sta facendo tantissime vendite C'è tantissima di quelle persone che stanno ancora comprando GTA 5 E mi chiedo perché la Rockstar dovrebbe mettere in vendita GTA 6 prima del 2020 Se ancora GTA 5 è così richiesto diciamo, no? Io ho fatto un post sulla mia pagina Facebook dove ho chiesto Secondo voi quando uscirà GTA 6? Molte persone mi hanno risposto nel 2017 e 2018 Perché sono convinti che appunto dopo sei anni, ogni sei anni esce un GTA E quindi se ancora tuttora che manca diciamo un anno, due anni, come dite voi Che esce GTA 6, perché dovrebbero far uscire se GTA 5 è ancora così richiesto? Quindi rega, secondo me GTA 6 non uscirà nel 2017 e 2018 Per il semplice fatto che appunto ancora GTA 5 è richiestissimo Ora ragazzi non è che io mi baso su una scritta al cinema E quindi GTA 6 deve uscire per forza nel 2020 Mi auguro che sbaglio, ma comunque sia il mio pensiero è così E diciamo con questo piccolo easter egg che ho trovato, diciamo ho preso Voglio parlare di questo argomento Diciamo che questo easter egg piccolissimo È un punto di riferimento per parlare di un argomento abbastanza importante e fondamentale Quindi ricapitolando, la maggior parte delle persone dicono che GTA 6 uscirà nel 2017 e 2018 Una persona lo dice perché ha visto il trailer di GTA 6 e nel trailer dice nel 2018 L'altra persona è convinta così perché viene dal futuro L'altra persona è convinta così perché è il padre che lavora nella Rockstar Quindi non lo so a chi credere sinceramente Comunque sia, sentite a me il mio ragionamento che ancora deve iniziare Io ho fatto solamente una piccola premessa Alla Rockstar interessano solamente i soldi Quindi quanti più soldi riesce a fare con GTA 5 meglio è E poi non appena vede che le vendite di GTA 5 sono in calo Diciamo che farà uscire GTA 6 dopo qualche annetto GTA 5 non verrà più richiesto tra un paio d'anni Perché appunto ha fatto la sua E quindi si avvicina nel 2020 Sempre tramite fonti, tramite informazioni trapelate così e colà La Rockstar aveva intenzione di fare una mappa gigantesca Questo è il pensiero di molte persone Comunque sia, se la Rockstar dovrebbe per davvero fare una mappa così gigante Ha bisogno di tempo Perché comunque lo sapete che la Rockstar fa dei giochi ottimi Non senza bug, senza glitch perché i glitch e bug ci sono sempre Ma li fa senza errori stupidi e inutili Dovuti alla disattenzione e alla mancanza di tempo Quindi la Rockstar diciamo che fa un lavoro perfetto sotto quel punto di vista E per fare ciò, se una mappa così grande dovrà avere molto tempo a disposizione Quindi probabilmente gli serviranno più di 6 anni per far uscire un gioco perfetto Con una mappa così grande Che poi la regola dei 6 anni è una regola ridicola Perché non ha senso Cioè io sento persone che dicono Eh ogni 6 anni hai su un GTA Ma non è vero un cavolo Boh, non ci ho mai fatto caso Sinceramente secondo me è solo tutta casualità Poi vabbè Comunque sia, secondo me GTA 6 uscirà nel 2020-2021 Per il semplice fatto che se per davvero dovranno fare una mappa grandissima Ha bisogno di tempo la Rockstar Se vuole fare una cosa perfetta, fatta per bene Senza che poi dovrà fare aggiornamenti inutili Per diciamo sbaggare delle foglie che stanno a mezz'aria Comunque sia ragazzi Se GTA 6 uscirà nel 2020-2021 Io sono un fottutissimo profeta E se io sono un fottutissimo profeta Dobbiamo prenderci paura Perché secondo me il mondo finirà nel 2028 Quindi cazzo Comunque ragazzi io vi invito a iscrivervi al mio canale Se non siete ancora iscritti lasciate bellissimo like al video Se il video vi è piaciuto condividete il video sui vari social network Profilo Facebook, link in descrizione Pagina Facebook, link in descrizione Detto questo ragazzi noi ci vediamo al prossimo video Eeeh Ciao ciao